Nessuno ha qualcosa da dire o da ridire sulla revoca dell'ex assessore Gianfranco Pappalardo Fiumara. Ieri sera la seduta di Consiglio Comunale ha riposto che doveva trattare proprio questo argomento e durata solo pochi minuti. Il tempo che il sindaco Enzo Caragliano leggesse la determina sindacale di revoca. Tenuto conto, si legge nella determina, che da parte del professor Gianfranco Pappalardo si è manifestata una progressiva non condivisione dell'operato collegiale dell'Aggiunta Municipale che tale atteggiamento esternato con modalità e forme irrispettose del ruolo di assessore comunale costituisce ulteriore comportamento incompatibile con l'immagine pubblica dell'amministrazione e dei suoi componenti che in tal modo viene meno la necessaria concordia che si ritiene essenziale per continuare a perseguire il programma politico-amministrativo a suo tempo concordato che di conseguenza si deve ritenere esaurito reciprocamente il rapporto di fiducia posto alla base della nomina assessoriale, si dà atto che la revoca della nomina comporta il contestuale ritiro delle deleghe in capo al professor Gianfranco Pappalardo. Dopodiché nessun consigliere ha voluto prendere la parola dopo il sindaco seduta sciolta per la delusione del pubblico intervenuto. L'attenzione al riposto è sempre puntata alle elezioni. Nel centrodestra, come riferisce Carmelo Durso di Fratelli d'Italia, si cerca una sintesi. Dopo le elezioni nazionali il quadro potrà essere più chiaro. Improbabile una quarta formazione e un quarto candidato sindaco di centrodestra. I candidati in pista saranno almeno tre e già il terzo, in base alla legge elettorale, resterà fuori dal comune.